E in un altro informe, per alcuni si mancava, a ruba conoscenza di alcuni di nostre frutti e verdure favorito. Nel nostro vicino a Venezuela, fuori di uno da treze prodotti di acqua di un situazione irregullare con la strada che può abastecere e reagire in frutti e supermercati. E' acqua di forza per buscare opzioni per complico e demanda di un cittadino. Alternativa è che può fare a costo di prezzi che non si costuma a pagare per un certo prodotto. Chissà questa situazione qui porta un mensaggio per i nostri produttori del locale. E' realizzazione di frutti e verdure in ultimi due luni, in frutti e supermercati, è un fenomeno strano. E' un'irregullazione di un barco di treze prodotti di Venezuela e è una situazione che sta affettando la strada che vende frutti e verdure. E' un'irregullazione di un coraggio che non si arriva a pizarre, che non si arriva in un contesto, non si è a tutta uno di persone, non si arriva in un barco che non si arriva in Venezuela. Non si arriva in una differente versione, alcuna cosa che sta andando in cui non quede la frutti, ma è una situazione che presenta per il supermercato grande, ora deve avere ausenza di barco venezolano, il distribuidor non può entregar frutta nel supermercato. Il clandice, la clientela, è che c'è un problema con il supermercato. Noi siamo qui con noi, per explorare rondi, e arriviamo a stare a fuori di Miami, e poi abbiamo più informazioni, più prodotti valiosi che può aiutare in un posto che si guarda e non è assinato. Conseguentemente, come si busca frutta e verdura che si cultiva nella latinoamerica, però fuori di Miami, passurti e supermercato. Il egecutivo del supermercato non sta segnalato, ma è un'opzione qui abbia a costo di prez del prodotto. In frutti, per due o tre settimane, l'impatto di falte di frutta fuori di Venezolano è evidente, ma è una situazione a migliorare e non a normalizzare. La frutti, anche, è un'opinione per un'altra alternativa più diretta per la clientela, però non può evitare un'opinione per il prodotto. La qual è la nostra curva di 3C fuori di Santo Domingo, ma è un'opinione più costosa, quindi è affetta tanto a noi come al consumatore, al cliente, quindi è un'opinione per un'alternativa, ma è un'opinione per un'opinione per il nostro soluzione per la Venezolano. Allora, nel momento di registrare la scassezza di frutta e verdura, è creare spazio per la più produzione locale di cui non voglio. Il prodotto locale mi sta per funzionare in un uovo e tratta di cultivare lo più possibile, come non ciò che non ciò che depende di Venezola, Colombia, però il prodotto non può cultivare, ma è un prodotto che non è un straddolo, una pappa, è diverso da un prodotto che non è un papaya. Quindi abbiamo bisogno di avere un po' di più e la possibilità di coltivare più. Non c'è nulla che sta succedendo e non c'è una incertidumbre, ma non c'è nulla che sta succedendo. Ora qui non c'è un barco fuori di Santo Domingo e non c'è più contento, però l'occhio, ciò che non c'è attrazione per mantenere il prezzo per la nostra clientela. E in questo caso qui non c'è qualcosa di fuori di nostro alcance, perché il prezzo è un po' di più alto. E ancora non possiamo avere una versione completa e concreta di chi è il motivo reale che le frutti e le verdure non stanno arrivando fuori di Venezuela. Il relazionista pubblico del Consulato Venezolano, il nostro, non c'è autorizzazione per capire il tema, ma è la prima idea di consultare il Vice Consul di questo assunto. La vice sicuro non tratta di una decisione del governo venezolano. di meglio, ciò che non c'è un po' di più facile che ci sia un tipo di frutti e verdure in Venezuela per Aruba e non può confermare questo. In questo caso, il nostro paese è reperto di più informazioni di del Consulato Venezolano, della e del tema di qui. Giovanni Muller, Notizio Buenagia. Articolo 1 di un decreto che si chiama Gazzetta Oficiali di Venezuela che proglie il trasporto nel territorio nazionale di prodotto in questo proposito di exportazione. Si tratta di prodotto che si chiama canasta basico di Venezuela, prodotto che il medico Venezuela è prodotto per il consumo della comunità venezolana e indispensabile per la salute, la salute, la pazza sociale e la vita digno del venezolano. Ora, a revisa e articolo una riba lista di alimento in materia prima, non si tratta di frutta, di verdura, con excepzione di batata e tomati.